Aveva la valigia in mano ed un biglietto pronto per volare in Albania, ma i carabinieri lo hanno intercettato appena in tempo. A finire in manetta è stato il responsabile della rapina avvenuta sei anni fa durante la notte bianca marottese. In quella serata due fratelli di origini milanesi, ma residenti a Marotta, rapinarono un giovane campano che non aveva pagato una partita di cocaina, malmenandolo e strappandogli la catenina in oro che aveva al collo. I militari arrestarono nella fragranza di reato solo uno di loro di 39 anni, mentre il fratello si rese reperibile. Per l'episodio i due uomini hanno subito tutti i gradi di giudizio, al termine dei quali le forze dell'ordine hanno arrestato di nuovo il 39enne, mentre tentava la fuga all'estero perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione. La vicenda inoltre ha avuto ulteriori risvolti giudiziari perché i fratelli hanno continuato a minacciare la vittima, tanto da collezionare altre denunce tuttora pendenti al Tribunale di Pesaro per i reati di minaccia aggravata e danneggiamento per incendio e lesioni.